E ciao a tutti ragazzi io sono sempre XRiggy01 e oggi siamo al decimo episodio di Pokémon Nero ragazzi andiamo subito Eccoci qua ragazzi a Libeggiopoli Allora abbiamo la squadra molto strana Questo che cos'è? Lo dividi vero? Ok si Allora Vi chiamo un po' Libeggiopoli ragazzi Innanzitutto come state? Come state? Questo è il deposito Oh pipi su ragazzuoli bellissimi E un po' che Pokémon si possono prendere qui Un bel vanillite Oddio vorrei prenderlo ragazzi Etere Purtroppo ancora non l'ho preso ma non l'hai detto perché per sbaglio l'ho ucciso ragazzi Però vabbè ci sta Lo prenderemo lo prenderemo Che cos'è questa? Ok doppio Allora Proteina ragazzi va bene va benissimo Perfetto ragazzi Abbiamo cattolato lui E lo metteremo in squadra Ovviamente prima gli diamo il soprannome Che lo chiameremo Normalissimo Cono ragazzi What? Perché ragazzi? Non posso mettere cono? Perché non posso mettere cono ragazzi? Ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando ragazzi? Cono gelato Non capisco perché cono non andava bene Ora voglio sapere questa cosa ragazzi Perché cono non andava bene? Va bene Ragazzi Ho fatto una lotta contro l'allenatore Ed eccolo qui Dracula si sta evolvendo in Swubat signori Ammiriamo Ammiriamo questa cosa fantastica Ammiriamo ragazzi Swubat Attenzione Attenzione ragazzi Ragazzi Eccomi qua Allora Vediamo un po' la squadra Cono gelato Vediamo un po' com'è Questo cono gelato ragazzi Vento gelato Nebbia Slavina E provazione E più attacco speciale 42 ragazzi Corpo gelo Il pomo recupera PS Quando grandi Ok Beh non è male ragazzi Non è male Ecco la squadra per ora Per ora è questa Poi magari andando avanti Nel gioco ragazzi Si potrebbe cambiare Qualcosina Ora vedremo Allora Deposito frigo Vediamo se c'è qualcosa Ok ci sta Comor Che sta venendo qui da noi ragazzi Ricci il Templasma Non può essere qui dentro Giusto Io e Fred Non lo so po' Tenticino E' meglio farsi coraggio E controllare anche dentro Ok Qua dentro non c'è niente Penso qua Qua sola ragazzi Un bel Timbur Attenzione Così nel Cile Lo sconfiggo ragazzi Ok C'era uno strumento Squamo a cuore ragazzi Squamo a cuore Ok Allora Dovevo entrare Ok Eh si C'è qualcosa ragazzi Pensavo a quello Che ha detto il campione Mi chiedo se un buon allenatore Debo avere anche altre aspirazioni Oltre a diventare forte Io ci penso E meno ci capisco Vabbè Lasciamo stare Iniziamo subito all'interno Ok Intanto qua c'è una Pokéball La reteball ragazzuoli La reteball Scusa Come faccio qui No Devo andare qua Ok Ah sono allenatori Questi Ok 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 Vai vai Penso al primo Non c'è attaccato ragazzi Non mi ricordo niente Di Pokémon nero Incredibile Pazzurdissimo Pazzurdissimo Incredibile Pazzesco Pinsir Ok Tipo fuoco ragazzi Ma io direi di fare Un po' brucia Però A tutti ragazzi Siccome Questo Violet Può farlo Almeno intanto Li togliamo un po' di vita Poi mettiamo Frog Omo contro i tpi erba Ragazzi Possiamo usare Ovviamente Il cono gelato Che non sapevo come chiamarlo Comunque Sinceramente parlando Quindi vabbè Cono gelato ci sta E' carino Volevo chiamarlo solo cono Però non mi ha fatto mettere Come avete potuto vedere ragazzi Non so il perché Se voi sapete il perché Casomai scrivetelo nei commenti Ma Io Non lo so Non saprei Non saprei ragazzi Non saprei Mettiamo Dragulaz Che si è appena Evoluto ragazzi In modo pazzurdo Vai con Aerosoyo Ragazzi Ma Wubat Non è la femmina Ed è stato maschio Ora Non mi ricordo Che avevamo Wubat Maschio What? Allora Un altro Ragazzi Non mi ricordo Nulla Del deposito Frigo Vi giuro Ma sicuramente Potevo girare Verso Destra Poi andare sopra Oddio Mi ricordo Pampur Tipo acqua Eh Tipo acqua Sotto Starelli Ragazzi Ci servirebbe Uno Con Elettro Tipo E Molga Molga Galvantula Poi ci sta Galvantula Vedo ragazzi Ecco Galvantula Già ci starebbe Secondo me Poi con Con ho gelato Sì con ho gelato Vanillite Ragazzi Volevo anche provarlo E Sapete una cosa Ragazzi Mi sa Che andando avanti Lo starter Non ci sarà Ok Lo starter Nella serie Non ci sarà Ragazzi Ve lo dico subito Perché non Voglio arrivare Pino Fino alla fine Con emboar Ok All'inizio ci sta Però secondo me Fino alla fine No Voglio avere un altro Pokémon Tipo fuoco Che non dirò Ovviamente Perché È molto più bello La Suspense Però Non voglio giocare Con emboar Ho sempre Gioato con emboar E sinceramente Mi sono rotto Il A zoom Quindi Ah che sveglio La facca Di merda Ok Non mi fa tanto Ok Non mi fa di più Quindi ragazzi Non farò La lega Con emboar E non continuerò Con emboar Forse a livello 50 O roba del genere Potrò cambiarlo Ma forse pure prima Forse al 40 Vediamo un po' Come andrà la situazione Però Si vorrei cambiarlo Ragazzi Non è che Non mi piace In emboar Ok Però Sempre ad avere I starter Tutte di più Sempre gli stessi A fine No Però bisognava Anche provare Nuove cose Ovviamente Ragazzi Tipo questo Pokémon A me Io l'ho mai usato Ma non mi piace Non vorrei mai usarlo Sinceramente Mai usato Ragazzi Non so voi Se l'avete mai usato Stipo Tipo Vubat Pure io Mai usato Simple L'unico Usato In questa Gen Vabbè I starter Tutte e tre Ovviamente Quanto mi ha tolto E Croco Sandile Crocorock Ok Quella l'ho sempre usato Ragazzi Perché mi piace Veramente Tanto Mamma mia Stava per morire Crocorock Crocodile Non mi ricordo come si chiama Ma è troppo Pico ragazzi Vi giuro È troppo Pico L'hanno fatto Veramente bene Quel pokemon Però Una cosa Ragazzi Devo togliere Il condivisione di esperienza A lui Ok Prendi E diamolo A A Violet Ragazzi Poi Andiamo Oddio Ce l'ho le pozioni Ragazzi Acqua fresca Super pozioni Sì ce l'ho C'è Tocca a ricomprarle Poi Ovviamente Tocca a ricomprarle Ragazzi Allora Torniamo Qua Non c'è niente Qua c'è una Pokéball Vedremo che Cos'è Vedremo che Pokéball Sarà Comunque Posso dire che Il deposito Frigo Ragazzi Non me lo ricordavo A Vanillit Ciao Ok Ok Facciamo Vanillit Contro Vanillit Ragazzi Che cosa Uscirà Uscirà La Neve La Neve La Neve Toglie così Tanto Aspetta La terra Ragazzi È super No La terra Muore Con il ghiaccio Oddio Non mi ricordo Vanillit Sono fuoco Ragazzi Eh no Moriva San Sandile Moriva Malissimo Abbiamo fatto Imparamarchi A fuoco È vero Non ve l'ho Detto Ragazzi Non ve l'ho Detto Mentre Stava Allenando Quando si è Voluto Zubat Che mi ha fatto Quell'allenatore Fuori Il deposito Frigo Ok Violetti Velo 24 Salito Timbure Ragazzi Che mettiamo Dracula Oh Dracula Sta andando Oggi si è evoluto Oggi 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 Il tevasto Di Dracula Raga Incredibile Fazzurdo Questo Dracula Con il suo Aerosoi Si però Io ti dico Aerosoi Incredibile Tu non puoi Fare Il fallimento Ok Oh L'ha anche Shottato Signori Ma oggi Dracula È incazzato Ragazzi Incredibile Antigelo Ok Molto Molto carino Antigelo Allora Dove andare Sopra Ovviamente Quanti allineatori Oh c'è una Pokéball È una Pokéball Sì è una Pokéball Perché non Vedevo Ragazzi Se fosse Una Pokéball O no Timbure Ok Ragazzi Ma scusate Ma è un deposito Frigo O è un deposito Di legno Porco Discord Di legno Oppure Di Pokémon Lotta Vai Signor Dragula È il tuo Momento Sassata Porca Cazzo Me lo uccide Ragazzi Ok No Mi ha tolto 20 Quindi Top Vai Guardia Lo soio Lo dovresti Shottare Magnifico Vanillite Oh Fermo Era impazzito Il pad Ragazzi Era impazzito Il pad Sì perché Io gioco Col pad Ragazzi Gioco col pad Ovviamente Pokémon Perché Mi trovo Meglio Sinceramente Mi trovo Meglio Nitrocarica Vai Mamma mia Aumenta anche La velocità Secondo me Nitrocarica È buona Comunque Come mossa Un altro Timbur Attenzione Siamo Dracula Oh Regà 100% Che Aerosuo Ora fallisce Fidatevi Che ora Aerosuo Fallisce 100% 100% Guardate Guardate Ah no Se lo piazzia Vabbè dai Hai tre turni Ok Non serve Manco dirlo Ragazzi Poi dopo Pokémon Nero Cosa Volete Vedere Casomai Vabbè che Stiamo ancora La metà Quindi Pokémon Nero Stiamo Andando a Lentini Lentini Iperpozione Ok Oh che è qua dentro Aspetta Ok Comor Ci stava Uh Vai Il team plasma Ragazzi Era ora nascosti qua dentro Ma sentite Non possiamo parlare Quanto Questo freddo È insopportabile Ok Stai scherzando Ragazzi Dobbiamo Uccidere Tutti Cristo Dio Cristo Dio Raga Lepard Ecco Lepard Come lo uccidiamo Lui è buio Tipo rotta Ragazzi Vero È super Efficace Tanto facciamo Un bel bruciapelo Così non Attacca Ok Vai Vai signor Vai signor Vai signor Pyro Vabbè Sì mi fa Inseguimento Va bene Va bene Tanto non mi fa Tanto Diciamo Buono Così manco M'attacca Pyro Sberle Sperletese Sfugate Seriamente Ragazzi Brutto colpo Eh Mi ha fatto doppio Ragazzi Mi ha fatto doppio Brutto colpo Con due mosse Cioè con due botte Voglio dire Ok è andato Violet 25 Ovviamente Penso Non sarà L'unico Ragazzi Ok No 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 Ragazzi Non vorrei dire Ma io questo qui L'odio tantissimo Vai con Pyro Allora Non so se Farlo svegliare subito Ma me ne sa Manco ce l'abbiamo Ragazzi Invece ce l'abbiamo Vai Si crea un occhio Non mi fa niente Ti prego Attacca per primo Rapum Bravo Pyro Bravo Ma mia sto Wachog Ci ha fatto passare Le pene dell'inferno Ragazzi Contro Aloe Non so se vi ricordate Scraghi Pure lui Ma lui è tipo Lui è buio Ragazzi Ma è lotta Aspettate un attimo Ok non è buio È buio Che tipo è Scraghi Ragazzi Non mi ricordo Lotta buio O normale È buio Non mi ricordo Ok Battuto anche questo Ragazzi Direi di Dargli una bella Super pozione A Pyro A Dracula E agli Aepard Tripla Super pozioni Ok Dobbiamo battere Tutti Ragazzi Dobbiamo battere Todos Todos Sandile L'attenzione Il sandalino Sandaletto Ragazzi Vai frog È il tuo momento È il tuo momento Signor frog Pango sverla Bene La precisione Mecala Bola raggio Shotato Signori Frog Wachog Vai Pyro Ok Tecno Primi Si gode Brutto colpo Interface Wachog Mi dispiace Fratellino Ok Ok Ci sto Ci sto Ci sto Ci sto Manca questo Che è l'ultimo Ragazzi Ma dobbiamo battere Anche il cavo Come penso Trubish Ma lui se mi ricordo È veleno Quindi ora Facciamo Brucia pelo Ragazzi Che stanno anche Finendo il brucia pelo Sinceramente Parlando Madonna Che danno Mettiamo Sandalino Kaiman Mettiamo Sandalino Sandaletto Kaiman Doppia sverla Ragazzi Brutto colpo Oh ma Li becciopoli Comunque è la cosa Brutto colpo Ragazzi È incredibile Siamo entrati qua Brutto colpo A Google Proprio Sabio tomba Ragazzi Deve essere Super efficace Mamma mia signore Eppure intrappolato Pango Ok Intrappolato Ragazzi Deve morire C'è uno di vita Fagli amorso Ciao Bravissima Kaiman Arroganza di Kaiman Attenzio Kaiman Attenzione Ok Violet Livello 26 Unghia Guzzi Fila usa Fila i propri artigli Aumentando attacco E precisione Abbiamo turbo sabbia Ragazzi Unghia Guzzi È buonissimo Buonissimo Ragazzi Tacco e precisione Minchia Ok Ecco Rafan Ragazzi Con i suoi Operai Vai I lavoratori Che portano Via 900 Recute Ragazzi C'è In un modo Pazzurdo Incredibile Va bene Uff Perché è tre Quello E questo uno Ma che vuol dire Ah no Tutte due Ok Perché Quello ha tre Però Ok Palestra ragazzi Perfetto Quindi Quello a cui Aspire Il team plasma È lontanare Poma Da gli anestesi Romani Sarebbe come se Poma Sparissero Del tutto Da faccia La terra No Ok Diventa un Ghiacciolo Vediamo Sta cosa Ragazzi Che Gelomai Che Ora Vediamo Cosa serve Perché Sinceramente Non mi Ricordo Strumento Appartenere A un pezzo Di ghiaccio Riespinge Il calore E le potenze Di mossi Tipo ghiaccio Ragazzi Diamolo Subito A cono Gelato Perfetto Perfettissimo Possiamo anche Uscire da qua Ragazzi Il deposito Frigo È Stato Fatto Ok Perché Quando Entriamo A Lib Ci apri La canzone Ragazzi Valli Sempre Super Ragazzi Spero Che Questo Video Vi sia Piaciuto Lasciate Like Del video E Iscrivetevi Ciao Belli Ciao Ciao Ciao